Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, grazie, grazie mille, buonasera, Maria De Filippi e Made in Sud, ragazzi, Maria De Filippi, grazie mille Stefano per essere qua, sono davvero molto contenta di rivederti, grazie mille, vai pure a prepararti per il passo a due di Alessandro Accelentano, veramente io stasera non ballo perché siamo a Made in Sud, Maria, non siamo ad amici? No, non siamo ad amici, però c'è Gaia, ma che Gaia? Gaia presenta praticamente il suo ultimo singolo, dopo una storia d'amore lunga, naufragata però, mi dicono, ha avuto un collo, soprattutto fisico, Gaia dovrebbe avere 22 anni, ma ne dimostra almeno 72, ma non è vero, sono giovanissima, dai, abbiamo ufficialmente il televoto, no scusa, non c'è il televoto, non c'è il televoto, allora vediamo le carte, carte? No, no Maria, non ci sono le carte, siamo a Made in Sud, non ci sono le carte, bene, Stefano questa sera si propone in veste di tronista, siamo a Made in Sud, non è uomini e donne? No, c'è Gemma, no ma che Gemma, scusami, non mi riconoscendo So che hai voluto portare in esterna Gemma, non è vero, non è vero, sta delirando La redazione mi ha detto che per ora l'hai fatta piangere, perché in esterna Napoli a Pusillipo le aveva offerto soltanto un tarallo per giunta secco. Il tarallo è classico, è sempre stato molto attaccato al denaro. Io aspettiamo un attimo che c'è la telepromozione, si è capita? Questa è la storia di Stefano De Martino. Stefano è nato praticamente in un bosco dove è stato trovato da un cacciatore che l'ha preso con sé e ha continuato ancora neonato in una comunità, una comunità di transessuali dove Stefano è crescere. Ha ricevuto le carezze e l'affetto di cui aveva bisogno. Questa sera Stefano scrive a C'è posto perché vorrebbe incontrare la direttrice di quella comunità. Non è vero! Si tratta di Teresa. Teresa. Gianfranco? No, Maria non c'è Gianfranco. Teresa ha accettato l'invito? Sì, Maria, Teresa ha accettato l'invito. Bene, facciamo entrare Teresa? Va bene, non fai. Prego. Ti prego, ti prego. Bene. Adesso Stefano, noi apriamo la busta, se tu hai voglia di ascoltare mi dici se puoi parlare, va bene? Conosci il programma, no? Va bene. Apriamo la busta. Ah, quella è la busta. La bustina. Puoi parlare, no? Si, puoi parlare, puoi parlare. Che c'è? Prego, parla pure. Allora Stefano, io sono Teresa. Tu saresti Teresa? Si, sono Teresa, la ragazza con la sorpresa. Come metto l'orità, papà del... La pubblicità, pubblicità, prego. Maria! Stefano! Ma dove va?